Una biblioteca delle donne, anzi una biblioteca di genere, rivolta a quanti vogliono approfondire tematiche inerenti al mondo femminile e maschile. Questo è il progetto che Donnal Sud, dopo l'inaugurazione dello scorso 12 aprile dei nuovi locali del centro antiviolenza, sta cercando di portare avanti in questi giorni a Vittoria. La presidente di Donnal Sud, Sabrina Mercante, insieme a tutti i volontari dell'associazione, vogliono distinguersi dagli altri centri antiviolenza, creando una casa alla quale le donne possono rivolgersi non soltanto per cercare aiuto e conforto nelle situazioni più buie e difficili della loro vita, ma anche per trovare un momento in solitudine o in compagnia per sé e per la propria cultura. Tocca adesso alla comunità intera aiutare l'associazione, ha dichiarato Mercante, donando volumi e tesi inerenti tematiche di genere. La biblioteca dovrebbe aprire nei locali della fondazione Il Buon Samaritano, di Don Beniamino Sacco, e andrebbe ad incrementare i due centri antiviolenza, quello dedicato alle donne e al nuovo nucleo Uomini Maltrattanti.